Massimiliano Pignoli oggi in visita presso il presidio ospedaliero di Penne, ecco vi siete voluti accertare dei ricoveri, ricoveri che in alcune occasioni secondo voi durano più del previsto? No secondo noi, secondo i numeri siamo venuti in missione dalle direzioni sanitari, praticamente l'ospedale civile di Penne è diventato medicina e geriatria un reparto a lungo degenza, questo non può essere per cui interpreteremo l'assessore e il direttore generale facendo funzione il dottor Caponetti di questa situazione perché mentre a Pescara ci sono persone in geriatria e medicina che stanno praticamente lungo i corridoi a Penne si permettono tra virgolette il lusso di tenere pazienti ricoverati mesi e mesi, questo non può essere giusto perché sia esseri umani sia a Pescara che a Penne ma la stessa cosa nel prossimo viaggio sarà fatta a popoli per cui sarà una battaglia lunga politica che ho già iniziato a fare da alcuni anni in consiglio comunale a Pescara già con un consiglio comunale straordinario per il sovraffollamento di geriatria e medicina, fino a quando non verranno sistemati quelle parti io non mollerò la soluzione la lasciamo a chi lavora ai vertici della direzione generale, noi oggi siamo venuti qui per questo grave problema che ci hanno rappresentato e ringraziamo il primario che ci ha ricevuto ma ci aspettavamo risposte molto più concrete Aspettavamo una risposta molto più concreta, noi non molliamo anche per il rispetto di tutte quelle persone che oggi non hanno un posto letto sia in geriatria che in medicina e quindi sicuramente chiameremo a rispondere anche l'assessore alla sanità Nicoletta Veri ma questo voglia essere una collaborazione anche per i cittadini di Penne, di Pescara e di tutto il territorio